Buongiorno e ben ritrovati puntuali come sempre per il nostro consueto appuntamento del mattino La rassegna stampa, andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola questo venerdì 28 giugno Andiamo a fare il nostro giro delle prime pagine per scoprire attraverso le anticipazioni, attraverso i titoli in primo piano quali sono gli argomenti principali di oggi Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dalla quotidiana La Sicilia che apre con la cronaca Ed è un grave patto di cronaca avvenuto nella Siracusano, un maledetto pozzo Questo è il titolo, tragedia a Palazzola Creide dove Vincenzo, un bimbo di 10 anni, durante un'escursione è morto, affogato dopo un volo di 7 metri Caduto questo bambino all'interno proprio di questo pozzo Inutili purtroppo i tentativi di salvarlo Nomine europee, alta tensione con Meloni, blindati Ursula, Costa, Callas, Weber, Tusk e Tajani, Roma e Centrale E poi l'inchiesta di fanpage, insulti beceri e cori antisemiti, prime dimissioni tra i giovani di Fratelli d'Italia Nodo rifiuti, discarica di lentini, bacchettate del GIP, atteggiamenti contraddittori E poi dal nodo rifiuti al nodo sviluppo L'IRFIS in campo con altri 232 milioni per aiutare le imprese a fare innovazione Una donna contesa, probabile movente della tragica lite Si parla in questo caso dell'omicidio avvenuto a Mascali nella Catanese dove un uomo ha ucciso un vicino di casa e poi Far West in chiesa rimase paralizzato per sedare una rissa 12 anni a chi sparò In taglio alto parte dai giovani la rivoluzione di Carlo Conti per dare vita al festival di Sanremo del dopo Amadeus Giro delle città partendo da Catania denunciò tre partner anche il terzo assolto ma varie sentenze il caso della donazione sempre a Catania A Cireale troppi pregiudicati Allora un chiosco viene chiuso e poi a Taormina di Sesto approvato piano di estinzione Lasciamo il quotidiano la Sicilia Restiamo nell'isola Andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia Anche qui la tragedia di Palazzolo Acreide In primissimo piano morire come Alfredino Orrore al campus Si indaga adesso per omicidio colposo A dieci anni cade in un pozzo artesiano Inutile il tentativo di una donna di salvarlo La ricostruzione scendi da lì L'inutile richiamo al bimbo sul coperchio del soccorritore E poi le parole del presidente dei geologi siciliani Corrao nell'isola dice Centomila scavi anche quelli in disuso devono essere recintati Mentre questa vedete è la foto dei soccorritori Che hanno tentato di salvare la piccolo Vincenzo di dieci anni Lo ricordiamo purtroppo però non c'è stato nulla da fare Intervista al presidente della regione siciliana Renato Schifani Sono molto deluso dice il governatore Da tre miei assessori Università ottimi voti nei test di medicina e polemica Il massimo del punteggio ottenuto nel capologo Legali già al lavoro Irfis in arrivo nove misure per imprese laureati La banca regionale Già finanziati i progetti per centinaia di milioni Per la competitività Andiamo in taglio alto Le nomine europee L'Europa sceglie i leader Si media adesso con l'Italia Mentre le parole della presidente Mattarella Ai paesi amici dice collaborino Su Ustica Le previsioni Nuova ondata di caldo asfissiante Nel weekend 42 gradi in Sicilia Bollino arancione per Palermo Dunque si preannuncia un fine settimana davvero bollente in Sicilia Andiamo avanti con la nostra rassegna Questa è la Gazzetta del Sud Ampio spazio stamane alla cronaca La droga da Amsterdam a Barcellona I nuovi retroscena dell'operazione di procura e carabinieri Che ha portato all'arresto di 112 persone nel Messinese Il gruppo criminale spacciava cocaina, marijuana e in esclusiva la Spice X E poi il fatto gravissimo di Palazzola Creide muore a 10 anni nel Siracusano cadendo in un pozzo Sotto shock un'educatrice che ha tentato di salvare il bambino Un altro bambino perde la vita ad Avellino Via libera alle nomine europee Meloni però, vedete, boccia l'accordo La Premier non cede Si astiene sul secondo mandato a Fonderlein E vota contro Costa e Callas Mentre Cori, chat e insulti antisemiti Bufera sui giovani di Fratelli d'Italia Dopo l'inchiesta di Fanpage Si dimettono due militanti Le parole di la russa che dice è inaccettabile Proseguiamo con la nostra rassegna stampa Lasciamo la Gazzetta del Sud Restiamo però in Sicilia con la prima pagina dell'edizione di Palermo Del quotidiano La Repubblica Che tra le altre cose apre con la cosiddetta Malamo Vida Giro di vite nel weekend Parliamo di Palermo Poi il Comitato per la Sicurezza Presidi fissi delle forze dell'ordine E soprattutto telecamere Per sorvegliare queste aree maggiormente a rischio Queste zone maggiormente frequentate dai giovani Soprattutto nei weekend, nei fine settimana Racket, vent'anni di resistenza La notte fra il 28 e il 29 giugno La città fu tappezzata dagli adesivi Un intero popolo che paga E un popolo senza dignità Da quel movimento sono scaturite 300 denunce Nel 2004 la ribellione dei giovani palermitani Di addio Pizzo E a proposito di Pizzo A proposito di Racket Ecco una testimonianza A Angelo e Gaetano Così abbiamo detto no Al ricatto mafioso E poi chiaramente All'interno di Repubblica Palermo Tutto l'approfondimento Compresa questa importante testimonianza Si parla anche di calcio del Palermo Lo vedete L'attaccante Rosanero Brunori Dionisi Ovvero il nuovo tecnico del Palermo Punta proprio su Brunori Però serve la tregua Con i tifosi Perché il rapporto Tra l'attaccante del Palermo E il popolo rosanero Si è un po' compromesso Un po' complicato Ecco negli ultimi mesi E allora adesso Dionisi dovrà riuscire Anche in questo Ovvero a ricucire Questo strappo Tra Brunori E i tifosi La cooperativa Niente raccolto A Verbum Caudo Più forte dei boss Ma K.O. Per la siccità Anche quest'anno Nei 150 ettari Di Verbum Caudo La tenuta sottratta Alla mafia a metà strada Fra il vallone nisseno E le madonie Era in programma La grande festa del grano Per celebrare la terra Il raccolto E le tradizioni Invece Per la prima volta La festa è stata annullata Infatti Non è cresciuto Un solo chicco di cereali A causa Della siccità Dunque Una situazione Sempre più complicata Quella legata Alla crisi idrica In Sicilia Un'emergenza costante In diverse parti Dell'isola Anche a Messina Vedete che rivive L'incubo Della sete E allora si fanno I turni Per avere L'acqua Lasciamo Repubblica Palermo Restiamo però Sulla Repubblica Questa è la prima pagina Dell'edizione Nazionale Che apre con La nuova Europa E Giorgia Meloni Vedete E la notte Dei no Titola Repubblica Sbloccate le nomine Dei vertici Dell'Unione Via libera Del Consiglio europeo Per Ursula Von der Leyen Costa e Callas La premier isolata Si astiene Su Ursula E vota Contro gli altri Duro Il cancelliere tedesco Porte chiuse Alle destre Populiste Cori fascisti E insulti Antisemiti I prime dimissioni Dei giovani Di Fratelli D'Italia Da Repubblica Alla prima pagina Del Corriere Della sera Accordo europeo Senza l'Italia Giorgia Meloni Si astiene Su Von der Leyen No a Costa e Callas Scelte sbagliate Dice La premier Primo via libera Regge l'intesa Sulle tre nomine Vertici Salvini parla Addirittura Di un colpo Di stato E poi La cronaca Bimbo Cade nel pozzo L'educatrice Non riesce a salvarlo È successo Nella Siracusano Come detto A Palazzo La Crede Una vera e propria Tragedia Che ha coinvolto Purtroppo Questo Bambino Di dieci anni Andiamo avanti Con la nostra rassegna Lasciamo il Corriere La Corriere della Sera Ci spostiamo Sul quotidiano La stampa Le nomine europee Ovviamente Sotto i riflettori Lo strappo di Meloni Ma Von der Leyen Fa il bis Consiglio europeo Ad alta tensione La sfida di Macron A noi Un commissario di peso Nomine top jobs L'Italia Si astiene Su Ursula E votano A Callas E Costa E poi Un'intervista Gianni Infantino La mia passione azzurra Il presidente FIFA Cittadino svizzero E l'amore nato Con Altobelli L'amore In questo caso Per l'Italia Dalla quotidiano La stampa Alla prima pagina Del giornale Tra le altre cose Un'interessante Intervista Tronchetti Contro Gli ultra Ecologisti Il Green Deal Una follia Tra idiozie E fesserie Dice In questo caso Marco Tronchetti Provera La sostenibilità Giunge L'imprenditore E prioritaria Ma no A percorsi Ideologici E poi chiaramente Il braccio Di ferro In Europa Nomine europee La Meloni Dice no A Bruxelles Accordo sui top jobs Ora tocca al Parlamento Ma la premiera Si astiene Su Ursula E boccia Costa E Callas Dopo l'inchiesta Di fanpage Due dimissioni E presa Di distanza Pugno duro Di fratelli d'Italia Su queste frasi Antisemite La rabbia Invece Dei gay Ebrei Esclusi Dal pride Land di Milano Scrive In questo caso Il giornale Lasciamo Il quotidiano Il giornale Siamo sulla prima pagina Del fatto quotidiano Meloni E i nemici In casa Antisemite ECR E Salvini Sola Sola in Europa Scrive il fatto quotidiano Riferendosi proprio Alla premiera Giorgia Meloni Tratta Nella notte Per spacchettare Le nomine Andiamo ancora Nel dettaglio Finta guerra Azzoppata Da baby Fratelli d'Italia E alleati Si distingue Ma non rompe Questo Appunto Scrive Scrivono i colleghi Del fatto Quotidiano Questa mattina Proseguiamo Con la nostra Rassegna Questa è la prima pagina Del quotidiano Il messaggero Anche qui le nomine Europee In primo piano L'ok Vedete E' arrivato Ma senza Giorgia Meloni Via libera Del consiglio Dei 27 A Fonderlein Costa e Callas Per i tre Top job La premier Vota contro Ma si astiene Su Ursula Vergognoso Se volessero Farcela pagare La cronaca Bimbo di 10 anni Cade in un pozzo Morto Annegato Tragedie In un centro estivo Nel Siracusano Una educatrice Si cala Per tentare Di salvarlo E ancora Francia Giovani Tra astensione Bardella Dai licei Alle banlieue E Jordan Mania Allarme Mudis Rischio Banche Lasciamo il messaggero Siamo sulla prima pagina Di Libero Un'altra stoccata Vedete A Ilaria Salis Ecco le prove Abusiva per anni Parla La vicina di casa Una testimonianza In chioda Ilaria Ha occupato L'alloggio popolare Fino a inizio Covid Spuntano Altre tre proprietà Immobiliari Del padre E la neo Eurodeputata Ammette Immunità Per evitare Il processo E a proposito Di Europa Lezioni di stile A Bruxelles Sfilano Li vedete Proprio Ilaria Salis E poi Lucano E Racchete Questo Scrive Il quotidiano libero Parliamo di sport Andiamo a vedere Anche questa mattina Le prime pagine Dei tre principali Quotidiani sportivi italiani Partiamo Dalla gazzetta Dello sport Che in vista Della sfida di domani Della nostra nazionale Contro la Svizzera Si affida A uno dei pilastri Della squadra di spalletti Ovvero Gigio Donnarumma Pensaci tu Titola La gazzetta Capitan Gigio E una delle certezze Di spalletti Ma servono i gol Il ct riapre A chiesa E scamacca Dunque spalletti Studia La miglior formazione Da opporre Alla Svizzera Domani dunque La sfida Degli ottavi Donnarumma E una garanzia Dalla gazzetta Dello sport Al corriere Dello sport Che invece Si occupa Delle questioni In casa Napoli Gelo Kvara De Laurentiis A Dusseldorf Per il rinnovo Di Kvaraschelia Ma il Georgiano Frena Secondo il Napoli Il giocatore Incedibile Lui invece Pensa al Paris Saint Germain Dunque Occhio a questa Possibile Rottura Tra Kvaraschelia E il Napoli Chiudiamo con Tutto sport Mercato Juve Thuram Junior Alla testa Di papà Parla Vedete Damiani Che parla Di questo Giovane Nuovo colpo Della Juve O comunque Obiettivo Di mercato Della Juve Ovvero Thuram Che potrebbe Arrivare Come ulteriore Rinforzo Per Tiago Motta Vedremo se alla fine Arriverà Questo ennesimo Colpo Di mercato Per il club Bianconero Noi intanto Ci fermiamo qui Chiudiamo questa Rassegna stampa Ma ovviamente L'informazione Non si ferma Sui nostri Canali Ma prosegue Lungo Questo Venerdì E allora Anche oggi Come sempre Vi invitiamo A rimanere con noi A più tardi